Salve ragazzi, come state? Io sono Briller. Ragazzi, bentornati al mio video, anzi bentornati sul... anzi, oddio, vabbè. Allora ragazzi, questo video, questo video, non so sinceramente, non so da dove iniziare perché ho tante cose da raccontare e spiegare. Quindi, allora, iniziamo dall'ultimo video che ho fatto in cui in pratica ho spiegato che questo canale è diventato per me come un'arancia che è stata premuta, premuta troppo e adesso non c'è più niente da premere. Quindi, nel senso, creatively, creativitamente, mi sono bloccato e quindi per questo ho fatto una pausa di creare su Briller. Ero sempre attivo su Briller, perché creare contenuti che insegnano l'inglese per me è un piacere, è sempre... c'è sempre qualcosa da insegnare. Ma, allora, Briller, questo canale qui, ho sempre parlato di differenze culturali, diciamo, tra l'Italia e l'America, anche altre cose, ma... Questo tema doveva finire prima o poi e ne parlavo più a lungo nell'ultimo video. Detto ciò, c'è quella cosa che mi porta adesso a questo video in cui magari devo iniziare a fare nuove cose su questo canale, perché la verità è che sarebbe un peccato grande lasciare morire questo canale, Perché ci tengo, sinceramente, a questo canale, ma diciamo che adesso, dopo averci pensato delle volte, ho un approccio nuovo a questo canale. Quindi, parliamone. E inizia tutto, diciamo, soltanto due settimane fa, tipo il primo settembre. Perché, come vedete nel titolo di questo video, la mia vita sta cambiando e la mia vita già è cambiata e sto facendo dei cambiamenti nuovi nella mia vita per migliorare lo stato della mia vita. Quindi, parliamone perché, allora ragazzi, io, diciamo, sono appassionato, tra virgolette, di self-improvement, cioè auto-miglioramento. Quindi, con questa in mente, ultimamente c'è, diciamo, quest'estate, quest'anno sappiamo tutti che è stato un anno abbastanza duro, ma a settembre sono tornato in Italia dall'America e mi sono trovato in una situazione, in quarantena, in cui dovevo stare a casa, non potevo uscire, non potevo fare niente in pratica, quindi lavoravo e basta. E ho scelto di iniziare un nuovo periodo nella mia vita. Scusate se sto parlando troppo, ma sto usando questo video come diario, magari tra dieci anni lo guardo e dico, bravo, che ne so, ma ho scelto di cambiare la mia vita e è facile dirlo adesso perché sono solo due settimane che faccio queste cose, ma ci ho provato anche nel passato tante volte e questa volta c'è qualcosa di fresca, una sensazione di opportunità e speranza e stavolta devo dire che si sente, cioè me lo sento un po' diverso, tipo è più concreto questa volta. Quindi i cambiamenti di cui sto parlando sono principalmente togliere delle abitudini dalla mia vita che magari avevo prima, tipo dipendenze e droghe. Allora, sto esagerando perché non avevo tipo di... cioè sono sempre stato una persona pulita, nel senso non ho vizi troppo pericolosi, non infrangio la legge o niente del genere. Ma allora, ve lo dico perché sto parlando troppo. Ho iniziato a... anzi ho smesso, perché smettere di fare cose cambia la vita pure. Ho smesso, uno, di lamentarmi. Questo sembra una frase molto semplice, ma lamentarsi è tipo uno sfogo che ti permette di vedere il mondo. Non lo so, tipo ti distorta la realtà perché stai dicendo tipo questo non va bene, quello non va bene, non sono contento di questo. Mentre devi vivere la tua realtà così com'è e se ti lamenti... Non lo so, secondo me non è buono per la mentalità, per la sanità della mente. Quindi è una cosa sottile non lamentarsi, ma ho adottato, cioè l'ho provato pure nel passato delle volte, ma ho smesso di lamentarmi due settimane fa, il primo settembre. In più sono molto... cioè il mio social preferito è Twitter e ho smesso di usare Twitter se non è per lavoro. Quindi, perché ho fatto quello? Perché secondo me quando sei su Twitter non è buono per la salute della mente, perché stai leggendo cose piccolissime di 260 caratteri lettere, quindi non puoi approfondire la tua conoscenza di niente, anzi è tipo mettere un po' di zucchero nel tuo cervello e questo dopo un po'. Cioè non va bene per la mente perché non puoi prendere così tante informazioni, non farci niente, hai preso zucchero, dopamina nella mente. E non lo so, cioè non lo sentivo una cosa sana da fare, quindi mi sono... cioè ho smesso di lamentarmi, ho smesso di usare Twitter se non è per lavoro. In più, io non so se ve l'ho mai detto, anzi sì l'ho detto su questo canale, però fumavo, non sigarette, non ho mai fumato le sigarette. In Colorado sì, l'erba è legale, sono cresciuto in Colorado, è tipo una parte della cultura quasi. Ho smesso pure di fumare, adesso da due settimane non è niente di grave, tipo oddio, mi serve proprio... Cioè erba non è proprio così, non crei dipendenze così, fumavo poi ogni tanto, non stavo fumando tutti i giorni, diciamo tipo una o due volte a settimana fumavo. Adesso ho smesso pure di fumare, non ho mai bevuto, non sono mai stato un grande bevitore, ma ho pure smesso di bere. Quindi è tutto, aspetta perché ho fatto pure la lista. Ah, anche, allora, pure per quanto riguarda mangiare c'è gastroni... gastronimica... oh mio Dio. Quello... sto iniziando pure a mangiare un po' diversamente, meno, molto meno dolci e zuccheri e roba del genere e più verdure, queste cose qui. L'America mi ha aspirato questo perché, come sapete, si mangia abbastanza male in America, quindi ho smesso pure di mangiare male, diciamo. Allora, queste sono le cose che ho smesso di fare e sta andando molto bene, cioè già dopo due settimane avere dipendenze su mangiare zuccheri è molto facile adesso. Fumare la sera non ci penso... fumare non è mai stato difficile perché non fumavo tanto, ma già inizio a pensarci di meno, tipo, dopo la cena fumo? No, cioè non ci penso nemmeno più così tanto... drinking, cioè bere, vabbè, non bevevo mai, social media pure quello, tipo, usare Twitter la mattina quando ti sveglio è bellissimo non farlo, cioè, ho già la mente più chiara quando mi sveglio così. Allora, poi, delle cose che ho aggiunto, cose che voglio aggiungere alla mia vita, perché finora abbiamo soltanto parlato di cose che ho tolto dalla mia vita. Quindi, le cose che ho aggiunto, la prima, quello che mi piace di più, meditazione. Meditazione, lo sapete cos'è? L'ho fatto molte volte anche nel passato, in periodi in cui lo facevo tutti i giorni, poi magari smettevo per un po'. Adesso ho iniziato con una nuova strategia che posso anche spiegare in un altro video, se volete posso spiegare la mia nuova strategia di meditare, che comunque adesso faccio circa 60 minuti al giorno, che sembra tantissimo, però è quello che voglio fare perché voglio pulire di nuovo la mia mente. Quindi, meditazione, workout, cioè allenarmi, questo è un po' scontato, ma, cioè, mi allenavo sempre, non ho smesso di allenarmi, ma sto facendo allenamenti a casa con manovre, mi sa, si chiamano, e sto seguendo un'app che, tipo, ha creato un plan per me. Quindi, workout, leggere libri, questo è proprio il contrario di Twitter, perché su Twitter leggi un tweet di 200 caratteri. Leggere un libro approfondisci la tua conoscenza su un argomento. Quindi adesso sto entrando di nuovo nel mondo di libri e devo anche dire che mi piace molto. Ho letto, cioè, come meditazione nel passato, leggevo a volte in periodi, leggevo tanto e poi smettevo. Voglio rientrare in un periodo di leggere molto, adesso il libro che sto leggendo si chiama The Lessons of History, tipo le lezioni della storia, che è interessantissimo, è la mia strategia con leggere è leggi ciò che ti piace. Se non ti piace, buttalo, inizia un nuovo libro. Tanti libri li ho buttati e ho iniziato nuovi libri. E il libro, lezioni della storia, questo mi sta piacendo, cioè, non è una, cioè, non mi fatico a leggerlo comunque, quindi quello mi piace. È già, tipo, impari cose e fai, tipo, ah, adesso sono più intelligente, capisco più cose, bla bla bla. E l'ultima cosa è mangiare bene, quindi healthy food più verdure più, che ne so, non lo so, cioè, mangiare bene è la dieta che voglio fare. Non voglio fare una dieta strana, tipo, questa cosa, questa pillola strana, la mia dieta è mangiare bene. Quindi, un po' mi sono buttato in tutto questo perché non è un cambiamento, sono, tipo, otto cambiamenti, nove cambiamenti. Sto aggiungendo cose buone e sto togliendo cose cattive. E la vita è così. Secondo me, tutte le cose cattive sono buone per te, ad esempio, le verdure. Tutte le cose buone sono cattive per te, ad esempio, fumare. Mi piace fumare, ma alla fine, cioè, non fa malissimo comunque, però alla fine è una cosa che voglio non avere nella mia mente. Quindi, ecco, non ho parlato più così tanto di questo canale, ma voglio iniziare a parlare di me di più e anche delle altre osservazioni che avrò nella mia vita. Perché, sì, posso anche parlare di cultura italiana e americana, eccetera, ma il mio cervello è sempre mio, le mie osservazioni sono sempre mie, quindi le mie curiosità sono sempre le mie. Per questo, secondo me, se condivido qualcosa che trovo di interessante potrebbe interessare anche a voi. Quindi farò video del genere, mi sa, e magari farò più video, meno... Cioè, faccio quello che mi pare senza preoccuparmi dei risultati, non penso più al views o niente del genere o entrate tanto su YouTube, che ne so, cioè, so pochissime. Vabbè, quindi, ecco, tutto qua, ragazzi. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio. Vi spiegherò come sta andando. Adesso sono a giorno 16 di questo viaggio. Meditazione sta andando molto bene, cioè, è proprio un nuovo livello di pace mentale, anche se sono solo 16 giorni che lo faccio. Quindi vi aggiorno nel futuro su come sta andando. È tutto qua, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ci sentiremo e seguirete la mia storia andando avanti. Quindi, sono Briller e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Peace! Grazie.